Una giovane russa, Irina Fadieria e il suo ex convivente di nazionalità ucraina, Volimir Psiuria, sono stati arrestati ieri sera dai carabinieri di Scalea con l'accuso di aver causato il decesso di Vladimir Ivanenko, il giovane 24enne trovato morto nel parco Le Mimose di Scalea l'11 novembre scorso. La tesi dell'accuso, un gioco erotico a tre condito da droghe e alcol per rendere più eccitante la serata, ma a pagarne le spese è stato Ivanenko che colto da malore è stato trascinato nel parcheggio del parco e abbandonato al suo destino. Fatale dunque una dose eccessiva di stupefacente ceduta al giovane proprio dai due slavi che all'epoca erano conviventi. Una ricostruzione avvalorata anche dal ritrovamento di un certo quantitativo di sostanze stupefacenti nell'appartamento della donna. Caso chiuso quindi dopo un anno di indagini a cura dei carabinieri di Scalea guidati dal comandante Vincenzo Falce, un giallo che a molti era sembrato irrisolvibile. Gli esami autoptici avevano comunque subito scartato l'omicidio, confermando che la morte di Ivanenko era stata causata da un overdose, ma che non fosse stato un regolamento di conti tra piccoli spacciatori, come si volle far credere poche ore dopo il ritrovamento del corpo. Gli inquirenti lo avevano capito fin da subito. I loro sospetti si erano concentrati sull'attività della donna, che abitava proprio in un appartamento in Parco Le Mimose, luogo in cui Ivanenko avrebbe accusato il malore.